Sono tantissime le segnalazioni che stanno arrivando in redazione da parte di voi telespettatori dopo i nostri servizi sulla situazione delle case di riposo di Bassano. Una su tutte punta il dito contro quanto dichiarato dalla direttrice Chiara Tracanzan sulla questione dell'acquisto delle televisioni, che per vari motivi sono state eliminate a Villa Serena. Ricordate cosa aveva dichiarato al nostro microfono? Noi non è che possiamo andare al supermercato o in qualsiasi altro posto ad acquistare il televisore perché ci serve. Noi dobbiamo fare delle procedure di gara perché siamo un ente pubblico. Procedure di gara, dice lei, forse però dimentica la cosiddetta procedura semplificata che riguarda proprio gli enti pubblici e di cui ci avete reso noti voi telespettatori. Ecco qui, articolo 36,2 lettera A del decreto legislativo 50 del 2016. Si legge chiaramente che sotto i 40.000 euro l'ente pubblico può fare un acquisto senza alcuna procedura di gara sottolineiamo senza, chiedendo tutt'al più due preventivi e altrettanti operatori economici, facile e veloce. In questo caso la gara d'appalto sarebbe un appesantimento nel procedimento andando contro i principi della legge 241 del 1990. E allora come la mettiamo? Quali sono gli interessi per cui bisogna proprio attivare una procedura di gara?